Con noi Matteo Santoni, il sindaco di Castelzardo, che ha partecipato all'inaugurazione del convegno di medicina. Il fatto che il sindaco partecipi a un convegno e porti il saluto ai congressisti significa che questa amministrazione tiene molto a questo tipo di turismo. Qual è la politica che l'amministrazione comunale da lei presiduta fa in relazione al turismo e soprattutto al turismo congressuale? Sì, la politica in continuità con quella che abbiamo cominciato 12 anni fa, quando cercammo con il gruppo, allora cambiamo insieme ed ora con il gruppo continuiamo insieme, abbiamo cercato di puntare molto sul turismo, non su un unico tipo di turismo, ma cercando di diversificare cioè abbiamo pensato più a valorizzare i turismi, quindi tra i vari turismi, quello culturale, quello religioso, quello balneare che chiaramente era quello più fruttuoso, abbiamo cercato di perseguire la politica legata al turismo congressuale. Nel 2001, quando ancora queste sale non erano restaurate, organizziamo il primo congresso, lo ricordo perché un congresso a me che sta molto a cuore è il 33esimo congresso della società italiana di biologia marina, della quale faccio parte, che quindi ha dato il via, ha dato il là a questo tipo di turismo che oggi è diventato abbastanza florido, che si colloca nei periodi a spalla della stagione turistica clou, quindi a luglio-agosto e quindi cerchiamo di allargare la stagione turistica nei mesi di maggio, si comincia addirittura già ad aprile con la Pasqua e si allarga verso la fine dell'anno nei periodi appunto come questo di ottobre e anche novembre qualche volta. Signor Sindaco, Castel Sardo è bellissima, quindi basta guardarla, non ha bisogno certo di particolari bietti da visita, però io la domanda la faccio lo stesso, perché un'organizzazione congressuale deve scegliere Castel Sardo e non per esempio una location di una grande città o quant'altro? Noi cerchiamo di dare tutta la nostra disponibilità, cioè il massimo dell'impegno, cercando di far sì che chi deve organizzare un congresso, chi deve organizzare un convegno a livello nazionale e internazionale che porti prestigio non solo alla città ma anche al convegno stesso in quanto si realizza in sale che sono prestigiose, sale Castello di Doria. L'amministrazione è investito anche come strutture? È investito anche come strutture e anche diciamo come da un punto di vista logistico cerchiamo di essere il più possibile vicini a chi organizza i congressi. La ringrazio. La ringrazio.